Il relito del traghetto Norman Atlantic sarà ormeggiato nei prossimi giorni nel porto di Bari. Questa è la decisione della Procura dopo il consenso arrivato dal registro navale italiano per permettere ulteriori accertamenti dopo l'incendio avvenuto il 28 dicembre scorso a largo delle coste albanesi. Durante quella drammatica traversata che dalla Grecia avrebbe dovuto concludersi ad Ancona morirono 9 persone. 19 ancora dispersi anche se il rischio è che a bordo possono esserci cadaveri di altre persone imbarcate clandestinamente. Al porto di Bari la Norman Atlantic sarà collocata alla banchina 12 dove sono ormeggiati i traghetti e le navi da crociera. Il relitto sarà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria barese che potrà quindi ispezionare la nave per capire le cause del drammatico incendio e cercare eventuali cadaveri. Il trasferimento da Brindisi a Bari è stato definito necessario dal PM Ettore Cardinali perché il capoluogo ha competenza territoriale sull'inchiesta e perché a Bari si svolgerà il processo sul disastro.